tele rompo con franco zotti e roby gorizia tv marciapiedi da paura guardate il video vai dai lavori inutili ai lavori utili esatto non so orco no insomma guarda che roba ma ti immagini si passa esatto si 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 e naturalmente qua si arriva una persona anziana questo scalino sicuramente si spacca una gamba si ma guarda che veramente assurda posso salutare posso salutare anche la mia l'amica e l'amico del tabacchino ecco saluto anche come si chiama lì felice grande felice eccolo allora ritorniamo di nuovo qua è possibile che nessuno si accorge di questo ma basta che mettere un po di asfalto ma no ma c'è passa un disegno guarda guarda anche più avanti guarda che roba ma posso dirti una cosa ma ti immagini questi poveri disabili guarda bisogna andare giù pensare che i poveri che non vedono si esatto anche che arrivano qua anche qua ceduto un pochino diciamo quello qua è abbastanza fattibile si bo ma fa veramente molto pericoloso si ma fa veramente schifo eh si si quindi davanti l'osteria sabottino abbiamo il marciapiede un disastro no si ma comunque fa per me si anche perché qua forza di asfaltare le strade non è che grappano qua una volta mi ricordo il marciapiede aveva 20 centimetri si adesso ha due centimetri e quindi uno magari col telefonino basta un attimo monta sul marciapiede e ammazza qualcuno il marciapiede deve avere almeno 25 esatto bella stacca di maniera che uno va a sbatterci e si rimbalza conto te le rompo perfetto